Pesa la città della musica, ma l'estate sarà più silenziosa. Non solo decoro estetico, ma anche acustico. In Baia Flaminia, con il nuovo regolamento che forse entrerà in vigore, si parlerà infatti anche di decibel da tenere a freno. I commercianti di Baia Flaminia si dividono tra chi si adegua all'ordinanza e chi invece, per colpa di questa, rischia di perdere incassi e clientela. Sì, questo è come abbiamo sentito anche noi commercianti, sta per entrare un nuovo regolamento, diciamo dei decibel, soprattutto nei posti dove ci sono comunque abitazioni. E quindi stiamo aspettando naturalmente per capire come muoversi, vediamo come sono questi decibel, poi in base ai decibel il regolamento, come tutti i vari regolamenti che hanno fatto con gli anni che ho visto, ci siamo adeguati e chi non si adeguerà, dopo ci saranno gli organi fatti apposta che faranno dei controlli. Allora, purtroppo questo nuovo regolamento, diciamo, che va un po' a danneggiare il nostro locale, come anche i locali qui intorno, perché noi siamo comunque un locale che diamo la possibilità agli artisti di esibirsi sia ai cantanti che ai musicisti e questo nuovo ordinamento, insomma, va a danneggiare perché nel momento in cui non possiamo utilizzare un livello di decibel adeguato per fare comunque una festa, adesso perché finalmente è iniziata l'estate, diciamo che non è un buon risultato sia per noi come locale che per il cliente che viene qui a gustarsi una serata, un aperitivo o quello che sia, insomma. Comunque abbiamo tanti artisti che si vengono ad esibire qui, dei DJ, degli artisti di strada anche, musicisti, musicisti, ci sono persone che sono affezionati a questo tipo di evento e comunque non vuoi, andrebbe sicuramente a danneggiare, a toccare il livello economico perché ci sono meno entrate, ma anche per noi che siamo ragazzi e vogliamo divertirci, adesso non dico che ci dobbiamo avere la musica da discoteca, ma neanche un livello basso, 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 insomma, questo. Purtroppo ultimamente abbiamo riscontrato delle problematiche, delle discussioni perché dicevano che tenevamo i decibel troppo alti nonostante comunque abbiamo tutto a posto, tutti i documenti in regola, però c'è chi si lamenta e questo secondo me va anche a discapito, diciamo, suo perché qui bisogna aiutarsi, già il periodo è difficile e penso che bisogna creare un'alleanza per lavorare tutti insieme meglio, però purtroppo non è così, adesso speriamo insomma che vada meglio.